È una giornata di grande festa, oggi è la corsa più importante dell'anno per Torino perché è la corsa che trova tutti i migliori cavalli di tre anni quindi è anche lo specchio dell'allevamento italiano è la corsa che si disputa prima del derby, il derby si disputa ai primi di ottobre a Roma e quindi è importantissimo perché da qui si vedrà un po' come saranno i giochi al futuro derby è una corsa per maschi e una corsa per femmine, sono due grandi premi e quella dei maschi quest'anno riveste un'incertezza particolare ci sono almeno 5-6 grandi cavalli e quindi ci aspettiamo che di qui venga fuori un po' il campione della generazione questa è l'importanza di questa corsa e quindi l'attesa per tutti gli ipici, per tutti gli allevatori, per tutti i proprietari è un'attesa spasmodica diciamo per l'esito di queste cose è una passione questa qua che viene dall'allevamento, che viene dall'agricoltura è una passione che viene da lontano quella per il cavallo non dimentichiamo che in tutte le piazze italiane, anzi non italiane, del mondo c'è un grande personaggio a cavallo quindi c'è il Marco Aurelio, c'è il cavallo del Verrocchio nella piazza di, nel campo Santi Giovanni e Paolo a Venezia c'è il Marco Aurelio di Roma c'è quel bellissimo cavallo che c'è a Praga, Venceslao, in piazza Venceslao ma dappertutto, in tutte le città del mondo quindi questo legame uomo-cavallo è un legame inscindibile e quindi tutti noi sogniamo perché naturalmente il proprietario o l'allevatore quando vince il cavallo a livello freudiano vince lui è una vittoria sua insomma quindi sono quelle cose che ti consentono di andare a casa camminando 10 cm sopra il livello del mare sopra il livello della strada se hai vinto se hai perso invece il passo si fa un po' pesante e però subito dopo, il giorno dopo si pensa già alla rivincita e quindi questo è il fascino delle corse dei cavalli insomma c'è sempre un oggi e anche un domani pieno di speranze questo Gran Premio si disputa qua da 40 anni noi siamo qui da 40 anni questa corsa è dedicata all'avvocato Carlo Marangoni e c'è anche un particolare ricordo di Fabio Jäger che è stato un altro grandissimo personaggio dell'Ippica diciamo dello sport in genere perché poi lui era stato anche un attento olimpico e così quindi grande personaggio l'avvocato Marangoni fu quello che trasferì gli podoni torinesi dalla zona della Fiat, diciamo Viale Traiano eccetera a questa zona qua appunto credo 50-60 anni fa e noi da 40 anni abbiamo preso in mano il testimone e quindi abbiamo portato avanti in certi momenti faticosamente in certi momenti più brillantemente diciamo abbiamo portato avanti questa missione perché alla fine diventa una missione un po' quella di seguire le corse dei cavalli quella di controllare che ci sia sempre un livello adeguato di occupazione e quant'altro ecco quindi per noi è sempre una festa grande un gran premio come quello di oggi un gran premio come quello di oggi grazie grazie grazie